... Devo dire che quando sono partito per il Riot in Calabria non avrei mai immaginato di poter vivere un'avventura così avvincente quindi volevo ringraziare tutti quelli che l'hanno resa possibile ma soprattutto Riccardo e i suoi amici che mi hanno fatto vivere nuove esperienze e poi ragazzi, campeggio e pesca sono delle cose che stanno troppo bene insieme Oggi finalmente è pesca a fondo Noi raggiungeremo quella zona lì dove non ci sono bagnanti e dove si infrangono le onde anche a distanza E niente quindi non ci manca che fare questa camminata e arrivare sullo spot di pesca speriamo che il mio istinto mi porti a scegliere una postazione giusta Andiamo ragazzi C'è parecchio vento Vorrei pescare in questa zona dove si vedono proprio dei massi che affiorano anche sull'acqua Qui invece è una finestra dove non ci sono massi fino a una certa distanza e proverò a lanciare al ridosso dei massi magari con dello 0,35 in bobina un piomo da 0,75 e vediamo un po' se l'americano o il BB vogliono insomma aiutarci a far catturare qualcosa Purtroppo la GoPro non ha portato la micro SD della GoPro e quindi non sto riuscendo a registrare però pensano che è uscito Sento veramente Guardate qua Sul BB Pensavo che le condizioni non fossero... non fossero buone però poi è la più è uscita Visto che il BB è morto lo infilo per metà poi l'altra metà la faccio sovrapporre a quella che è passata nel lago e dopo gli metto il filo elastico in questa maniera qua Mi dispiace troppo che le esche siano... siano morte ragazzi La grande amanezca... La grande amanezca... La grande amanezca... Un'occhiatella che adesso potremo rilasciare assolutamente La grande amanezca... 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 che ci abbiamo messo? come è andata? è buonissima secondo me raga potete mangiare me l'hai soggiato già? si un po' e come si dice quando una cosa è mangiabile? è mangiabile certo prova mettici la mano mettici la mano e prendi un pezzetto quello la va mettere la luce così marronami va va prendilo è commestibile è buono è buono considerando che questa è la zona dove abbiamo pescato ieri adesso non so se si vedono bene lì in lontananza c'è una piccola scogliera e questa qui in effetti era l'unica finestra che avevamo ieri per poter pescare e adesso non ci possiamo mettere perché ci sono delle persone che stanno con le maschere che stanno guardando gli scogli in acqua però da quando sto capendo nemmeno dall'altra parte perché ci sono altre persone che si stanno facendo il bagno ora proseguiamo alla camminata magari una piccola finestra ancora più in là camminando la si riesce a trovare il piombo credo sia un 70 il numero non c'è più il paternoster li costruisco veramente molto semplici utilizzo sempre una lenza madre del 50 o del 60 a cui faccio dei nodi e passo delle micro perline e all'interno la girella il terminale mettiamo 0,30 come ieri magari se arriva una bella orata vediamo di non perderla il mio sogno è prendere un'orata è un amo delle quattro facciamo la brillatura ovviamente prima di mettere l'amo passa sempre filo e trecciola all'interno della girella passa tutto il filo bello posso arcare anche le salmi ciao bello il bibi va sempre peggio giustamente non ho una borsa frigo mantenuto veramente malissimo e lui è Greg non c'è più che appare nelle storie Instagram a casa avete visto ieri è peccato che poi se n'è andato prima quando ancora non ho preso il fare perché mi pare proprio sfiga quando me ne vado la gente prende dai speriamo che almeno sul calasone Greg qualcosa ci mangi perché ieri così è stato su calata di sole si è incominciata a vedere muovere qualcosa la canna è partita oggi abbiamo la gopro e quindi qualcosa la dobbiamo riuscire a riprendere in diretta mangia un sarago da 3 kg ma magari ma magari che siamo nell'oceano atlantico magari un sarago di 3 kg un'orata però sì un'orata mi farebbe piacere prendere un'orata di 3 kg un'orata assolutamente comunque come abbiamo detto a Riot come si fa? pescatori? allora come si dice di pomeriggio pescatori la sera leoni la sera leoni ragazzi la sera leoni ormai è quasi calasone completo tra un po' smontiamo e ci ritiriamo in piazzola a fare una doccia e a cenare dopodiché scendiamo di nuovo in dance hall per fare un'altra seratona fino a mattino è anche per questo che in effetti non resto mai così tanto sulla spiaggia mi sarebbe veramente piaciuto fare una pescata a notte inoltrata però comunque siamo in un villaggio dove ci sono un sacco di cose da fare la sera mettono sempre musica ed è anche giusto che io scenda in spiaggia a divertirmi insieme agli altri la Calabria e l'isola di Capo Rizzuto ci hanno comunque regalato un bel saraco mi sono divertito ci rimarrà comunque un bellissimo ricordo di questa pescata adesso smonto chiudo tutto e ci ne andiamo perché si sente quello che dice Tana ragazzi ultimo giorno di Rion bene sì stamattina si parte vi faccio vedere la tenda ormai è messo tutto a posto dobbiamo solamente togliere il sacco a pelo e ci siamo non c'è lo zifo hai ragione hai ragione bello pescio ci vediamo alla prossima va bene? alla prossima d'accordo? ciao 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 purtroppo si parte con due giorni d'anticipo per varie motivazioni mi dispiace troppo ma non sono riuscito a fare l'ultima pescata che avevamo previsto in mare a light spinning e light rock fishing insieme a Riccardo Andrea e il samurai questo è l'unico rammarico che ho per questa vacanza che per il resto è stato fantastica ho conosciuto tantissime persone voi che mi avete seguito su instagram l'avete visto perché vi ho portato letteralmente con me all'interno del villaggio e vi ho reso partecipi di tutto quello che ho fatto in questi sette giorni devo ringraziare i ragazzi per avermi fatto provare l'esperienza al black pass unica veramente un pesce che mangio in modo stranissimo divertentissimo da pescare un'altra malattia nel cervello appena torneremo a Salerno subito mi metterò in modo per cercare qualche lago per andare a pescare e basta vi lascio qui sotto in descrizione il link della mia pagina instagram ma anche quella di Riccardo e di Andrea andateli a cercare perché sono delle pagine ben fatte hanno davvero tantissime catture e sono dei ragazzi disponibili almeno quanto me quindi vi risponderanno se avete qualche dubbio o qualche domanda oppure solamente per chiacchierare e parlare di pesca in generale la Calabria mi è piaciuta davvero tanto il villaggio davvero tanto il riot lo consiglio vivamente a tutti i ragazzi è qualcosa di unico di assurdo si fa tanta amicizia ci si diverte veramente è un'esperienza fantastica quindi ragazzi vi do appuntamento ad un prossimo video continuate ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto ciao ragazzi ciao 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 ciao